Tante critiche da moltissime persone perché ieri, o il giorno prima, ho twittato. Hai visto il tweet? Ho detto, non lasciamo che, sai, si tratta di una donna è stata uccisa in Iran perché non indossava il velo correttamente. Cioè, un po' dei suoi capelli biondi o corvini si vedevano, qualunque dei due fosse. Quindi l'hanno presa e, non so, potrebbero averla picchiata a morte. È morta. E delle proteste sono in corso ovunque. Tutte queste donne iraniane mi chiedevano, Sadguru, per favore, di qualcosa, di qualcosa. Avrei comunque parlato, stavo solo pensando se lotteranno o se passeranno. Non sai mai. Così poi ho twittato, ho detto, Non lasciamo che i religiosi e i libidinosi decidano come una donna dovrebbe vestirsi. Che decida lei come farlo? Un gruppo di persone sta vedendo come ogni millimetro del suo corpo dovrebbe essere coperto. Un altro gruppo di persone sta vedendo come possono ridurre i suoi vestiti a millimetro. Entrambe le cose accadono, sfortunatamente. Questi sono, sai, gruppi di interesse diversi. Gruppi di interesse diversi. Perché le donne non possono avere abbastanza buon senso per decidere da sole cosa è adatto per loro, come dovrebbero vestirsi? Ci siente? Grazie. 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 Grazie.